L'auto fuori controllo che finisce rovesciata, la donna alla guida che rimane incastrata tra le lamiere è accaduto in via Montegrappa a Campo San Piero dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un'automobile, probabilmente per la perdita di controllo da parte della conducente, si è rovesciata sulla strada. Nella carambola la donna è rimasta ferita, i pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere poi trasferita in ospedale. La polizia locale del Campo San Pierese ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.